quadro di aldo maspero dal titolo i tulipani e la gente vedete all'interno del quadro l'ombra ecco si vede le persone umane guardate che pinta però questi sono i tulipani che ho copiato con un areto fuori di lano dove sono stati piattati seminati dall'olandese quadro ad olio 50 per 70 eseguito da aldo i tulipani e la gente il waltzer dei tulipani e la gente dei Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.